Un saluto dal Tg della Mobilità su Viale Regina Margherita, all'altezza di Via Adda, da lunedì 29 marzo sarà di nuovo in funzione la telecamera presidio della corsia preferenziale. L'impianto sanzionerà i veicoli non autorizzati in transito sul corridoio riservato al trasporto pubblico. La telecamera era spenta dallo scorso gennaio per consentire interventi di potatura, nonché per la realizzazione del cordolo a protezione della stessa corsia preferenziale. L'impianto sarà acceso, come di consueto, 24 ore su 24 per 365 giorni d'anno. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.